Basta, io non gioco più, mi sono stancata di mangiare solo cose rabbiose No, rabbia, no, 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 calma Mi arrabbio tanto come non mi avete mai visto No, non ti arrabbiare, leoncina Non farlo, no, è piccante Tutto bene Tutto bene Vediamo che cosa c'ho per pranzo io, gioia Wow, è tutta gialla in effetti È mostarda Ma cosa c'è, un leone in casa? Ciao ragazzi, come va? Ma avete sentito? Ma che cos'è che fa sto baccato? Allora Molly, oggi sono molto arrabbiata Perché tu lo sai benissimo che io di solito sono gioia nella vita Perché sono sempre felice Ma tu dormi di continuo Ragazzi, è iniziata l'estate Io voglio andare al mare, in piscina A fare giochi d'acqua dappertutto E Molly dorme tutto il giorno Quindi oggi ho deciso di cambiare emozione E sono arrabbia E infatti guardate i miei capelli Sono diventato un leone Perché sono molto arrabbiata con Molly Che dorme di continuo Girati, girati No, ma guardate che capelli Non toccare i miei capelli Hai capito? Uh, è scappato pure Max Ha avuto paura di rabbia Non ci credo La rabbica è sempre felice È diventata rabbia E io Io sono gioia quindi Sì, ma tu dormi sempre Hai capito? Io voglio giocare Giocare, giocare Ok, calma Mi stavo riposando Adesso mi sveglio Prima voglio fare colazione, ok? No, no, no Che colazione? Oggi faremo un gioco Come un gioco? Eh, ma mangerai Però mangerai solo cose gioiose Perché oggi ragazzi Mangeremo solo cose di Inside Out Per 24 ore Eh, già E io ovviamente oggi sono così Questo è il mio mood Quindi direi che mangerò solo cose rosse di rabbia Che sai cosa mangia rabbia durante il giorno? Cosa, ma io cosa mangio quindi? Tu mangerai tutte cose gioiose che in realtà dovevo mangiare E io mi hai fatto arrabbiare Quindi non le darò Ok, calma, calma Quindi qua sotto c'è già qualcosa di gustoso? Qua sotto c'è già qualcosa di molto gustoso Guarda, ho pure le unghiette in tinta Ma sei proprio arrabbiatissima oggi Sono arrabbiatissima perché tu dormi sempre Comunque 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 sei pronto? Vai Iniziamo subito con il primo pasto del giorno di rabbia Allora, rabbia, lo sai vero che la colazione è il pasto più importante della giornata? Eh, sì, vero? Sì, ok Ma cosa mangia rabbia la mattina? Cosa mangia rabbia? Cosa mangia rabbia? Cosa? Che cosa? Ma una bevanda energetica Ma per forza che si arrabbia ragazzi Già guardate c'è il fuoco questa bevanda Non si può iniziare la giornata così No, rabbia, non si può iniziare la mattinata bevendo quella cosa Ma io oggi sono arrabbiata No, rabbia, non farlo Fa il fumo questa cosa No, rabbia, fa il fuoco No, rabbia, non farlo Rabbia, non farlo Attenzione, addirittura schiuma ragazzi Questa cosa è molto Che puzza Arrabbiosa Allora, questa cosa non capisco perché continuo a fare la schiuma Comunque ora dovrò berla No, Reby, Reby, no Com'è? Oh mio dio Ora sono ancora più arrabbiata Allora, vediamo un pochettino No, no, ma i meal pops li volevo io Meal pops Non la sai neanche fa Meal pops Dai, meal pops erano per la Beby Ah, fantastico Visto che io stamattina sono gioia Perché mi hai svegliato Ma tu non sei mai gioia Tu sei sempre noia Oggi sono gioia E quindi grazie mille per avermi dato il prezzo Ma che cosa? Dai, ma non è tutto Oggi si fa colazione con qualcosa di giallo I meal pops Perché io sono gioia Allora, voglio chiedervi una cosa ragazzi Voi siete team Che mettete prima il latte Poi i cereali O prima i cereali e poi il latte? Ah Eresia Non si mettono prima i cereali del latte Io infatti ho sempre messo prima il latte Io ho sempre messo prima il latte Ma quanto ne metti? Ma pochissimo Cioè, guardate ragazzi molli che mi hanno fatto un ruolo di gioia oggi I cereali, ecco Ma questi siamo scambiati i propri ruoli, non è giusto Erano i miei Meal pops Sì, tanti, tanti Ok, ok, ok Ok, fantastico Sappi che non ti guarderò con un giallo meal pops Poi io li bagno Tutta la mattina Guarda, guarda Vendemi dei miei meal pops E poi prendiamo una bella Dai Ma non mi fai mangiare niente di rabbioso, hai capito? Lui è arrabbiato Sì, sicuramente sono molto arrabbiato con te Ok, va bene Siete pronti? Dai, magari c'è qualcosa di buono così ci passa la rabbia Eh? Pensa proprio di no, eh? 3, 2, 1 Oh! Ma che cosa? Ma che cosa? Che cosa è sta roba? Pomodoro Pomodoro? 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 Ma allora, con il pomodoro posso mangiare almeno, non lo so, un po' di pasta al pomodoro? No Valla pa 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 Solo pomodoro? Ma com'è che lo apri? Eh, come faccio ad aprire il pomodoro? Sei un po' arrabbiata oggi, eh? Calma, calma Calma Ma che cosa è questa roba? Ma pure i semi A me non piace il pomodoro con i semi No Ah, che schifo Ma cosa sono polpette di pomodoro? No, vorremmo Ma sono polpette di pomodoro queste cose Ma dai, ma io volevo la pappa al pomodoro Polpette di pomodoro la mattina Che schifo Eeeh 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 No Sono molto Ma molto Ma molto Ma molto Che schifo Ah, basta Non ne posso più di questo pomodoro Che schifo Mamma mia Le cose sono rosse di rabbia Allora, a me piace il rosso Il mio colore preferito E mi piacciono anche i pomodori Il problema è che sono associati alla rabbia E quindi oggi sono arrabbiata E con questo pomodoro Io ci volevo la passata di pomodoro E volevo anche i maccheroni Calma, calma, calma Dai, adesso tocca a me che ho fame Come sono i miei maccheroni? E per concludere questa colazione L'ultimo ingrediente sarà No, vabbè Schersiamo, scherziamo Giusto così perché io sarò gioia oggi No, dai Ma non è giusto Ma te che ti lamenti sempre Che sei rampioso Sei stanco Ma non è vero Deve mancare proprio gioia Che sono io gioia Deve mangiarti tutte queste cose Viva la vita, Reby È giusto così oggi Dai, io non ci posso Non volevo io quello Guarda Guarda No, non vale No, non si mangia tutto così No, era mio quello No Veramente buono Un ciabibagno Un ciabibagno Un ciabibagno Un maschmello Che stavi per dire Ma sono dei maschmello Reby Reby, cosa fai qua? Sono arrabbiata Ma come? Max è arrabbiata? Perché sei arrabbiata? Sono arrabbiata, ok? Non lo so perché sono arrabbiata Dai, non essere arrabbiata È ora di pranzo Uh, pranzo E questo è il tuo pranzo? Il mio pranzo? Il tuo pranzo è rosso Ma io non voglio questo per pranzo Volevo la pappa al pomodoro Che prima mi avete dato solo il pomodoro Eh, mi dispiace Adesso c'è quel zuccino Ma questo che cos'è? È l'isir di rabbia? È l'isir di rabbia Fa un buon profumo però Dai, vieni No, no, Reby Ma non viene giù Non viene giù Come funziona questa cosa? Questo è il mio pranzo? Eh, sì Perché c'è altra roba Com'è? Buono? È ancora più arrabbiata C'è troppo zucchero qui dentro Vediamo che cosa c'ho per pranzo io Gioia Wow È tutta gialla in effetti È mostarda Ehi, ehi, ehi Devi essere gioioso È velocissimo È gioia È velocissimo È mostarda Eh, ci vuole del pane però Ci vuole del pane Sì, ma la mostarda non è che mi faccia impazzire Senti, devi essere gioioso Mi piace tantissimo Ma che bello Sì, mangiare lo schifo Ok, grazie per il pane Ah, un panino con la mostarda Vai Molly Volevi essere gioia? Ecco qua Spruzzerà la gioia da tutti i pori Come quella mostarda Eh, ma devo proprio? Sì, devi proprio Ah, vabbè, ma ne hai messa troppa Ma io sono gioia Sono felice di mangiare No Che gioia No, dai Lo tengo per la merenda No, no, penso proprio Sei gioia Sei molto felice di mangiare il panino con la mostarda Ok, ragazzi Però voi lasciate da me mi piace Ah, un bel morso Basta Io non gioco più Mi sono stancata di mangiare solo cose rabbiose No, rabbia No, no, no Calma Se qua non c'è qualcosa di buono Giuro che mi arrabbio, eh No Mi arrabbio tanto come non mi avete mai visto No, non ti arrabbiare, leoncina Ah, ci sono... no, devo rimanere arrabbiata Ma ci sono le patatine Patatine però arrabbiate perché sono al peperoncino piccate queste cini No, ma quindi vuol dire che piccheranno queste... le passo aprire da avere arrabbiata Che pare No, non puoi aprire queste No No, Revi Io ho una patate al posto di polpette Si è aperto malissimo No, Revi Mi piace questa cosa Allora, vediamo un po' Secondo me potrebbe essere anche buona questa patatina Non farlo, no È piccante È piccante, Revi No, no, tutto bene Tutto bene, eh Ho fame, per favore, ma non c'è qualcosa di buono Vi prego, vi prego Oh Banana, 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 banana Finalmente Banana, banana, banana Avevo fame Benene Calma ragazzi Ok basta Sei molto felice? Molto felice perchè finalmente posso mangiare qualcosa Cioè prima ho mangiato la mostarda, la senape o il mio po Oh devi essere felice, sei gioia Hai mangiato degli ingredienti buonissimi, hai capito? Gioia non lo sai fare, devi fare rabbia perchè io sono più gioiosa di te Non ti arrabbiare rabbia, adesso mangiamo Non sono rabbia rabbia Veramente buono vero? No rabbia rabbia Sono molto arrabbiata, non voglio più fare rabbia, voglio fare solo gioia Allora, facciamo così rabbia rabbia, che se loro lasceranno abbastanza mi piace Nel prossimo video mangeremo altre cose di altri personaggi di Inside Out 2 Io ci sto E poi mi raccomando lasciate un bel like altrimenti mi arrabbio Da noi è tutto, ciao 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 Ciao